E' finito il tempo delle inutili divisioni, né? Goloso, Gianduia e Croccante Waffer si presentano a voi elettori uniti per dare vita a un solo sapore. Perché solo amalgamati possiamo farcela. Golosi di tutto il mondo, amalgamatevi! Alle primarie del gusto, vota Gian Domenico Gianduia per gustarlo in tutti i ristoranti McDonald's dal 15 maggio.